Vale Elmore Pets Animalista e ambientalista Ciao a tutti, oggi parleremo dell'emergenza mondiale che ci porta in ausenza Ultimamente abbiamo sentito molto parlare di questa nazione a causa degli spaventosi incendi che la stanno devastando La gravità del problema è molto alta Centinaia e centinaia di animali sono morti Ci sono specie che ormai sono a rischio di estinzione come i koala Oltre alle migliaia di animali e piante morte sono morte anche qualche persona Ma il problema è molto più vasto Qua si parla di rischio di estinzione di molte piante e animali Però per fortuna ci sono persone provenienti da tutto il mondo che stanno andando in Australia a aiutare i koala e altri animali I koala soprattutto sono gli animali più a rischio perché a differenza dei canguri non stanno spostarsi molto bene sulla pianura quanto non sono bravi a farlo sugli alberi che però durante un incendio non fanno altro che divampare il fuoco La speranza è l'ultimo a morire E' questo il motto di tanti veterinari e persone con il cuore grande che stanno andando in Australia che sono già lì a dare una mano a tanti animali e tante famiglie In questo cerco spinni'round In questo cerco spinni'round It's all about the lies I've told It's all about love I wanna hold It's all about my heart I lost tonight It's all about the dreams I've had It's all about life and death It's all about my fears I left behind